それでは最後にこちらの映像をご覧ください occhio occhio appartamenti 仕事は 仕事は 仕事の解説 キャスティー 仕事は 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 仕事が 仕事は 仕事は Perchè si muovono? Sì No Non ci siamo Non c'è l'ambientazione I mostri si muovono Stranissimi Ma io, vabbè, a parte quello Non mi convince i posti Non mi convincono i mostri E non mi convince con la cosa che quando Cioè ti fa vedere la schermata È quella, quella Quando ti attaccano che c'è la X Che devi premere Ma in realtà Me lo aspettavo una cosa del genere io Perchè altro è brutta quella X È brutta l'interfaccia Poi, vabbè, ci stavano ancora lavorando Quindi magari No, 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 certo Nel senso che tante volte Con i trailer La gente dice Oh, che schifo questo Danno i consigli E quindi poi migliorano magari delle cose Cioè, cazzo È un gioco ad azione È un cazzo di Resident Evil Poi, scusami, eh Perchè è così tozzo Sto cazzo di mannequin? Cioè, cazzo Il mannequin è il mostro Che più di tutti Deve risaltare le forme femminili Perchè sono così tozzi Così grossi? Dovrebbero essere i più snelli Poi i suoni fanno cagare I suoni delle armi che sparano Ragazzi, sono di un deluso Ma poi c'è tutto un altro mood Rispetto al primo trailer Il primo trailer era Cupo Era bello Era misterioso Non ho visto Silent Hill Ma farlo sembrare Resident Evil Far vedere tutto questo sparare Sparare, sparare Si vede solo quello Vabbè, Silent Hill Il primo dava più angoscia Uno per la nebbia Per limitare il rendering Della PS1 Per i poligoni E per come si animavano Il modo in cui tutti si muovevano Era particolare Sinceramente penso Che non si può più fare qualcosa Per riportarlo in tutta la sua grandezza No, purtroppo no Ma quello non ci ho sperato Neanch'io Io non ho mai sperato Che il remake Possa farlo tornare A quella grande Non ci arriveranno mai Nessuno È inarrivabile Quel prodotto lì Dai, io stacco Vado a letto Sono stanco Sono deluso Cercherò 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 di non pensarci Dovrei 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 Grazie a tutti.